Ottima iniziativa per la Befana 2024. Gaio Den, la storica cioccolateria, ha proposto una collaborazione con la Sartoria Etica Palingen, della casa circondariale femminile di Puzzuli. L'obiettivo è dare possibilità alle detenute di riciclare quei tessuti che sarebbero stati scartati, realizzando al tempo stesso un bel progetto che è destinato prima di tutto ai bambini. Quest'anno infatti sono state messe in commercio delle calze per la Befana davvero particolari, contenenti i prodotti naturali e artigianali della rinomata cioccolateria, dai celebri mudi alle ghiande, dai genduiotta alle forestine, tutti nati dalla selezione di pregiate varietà di cacao per ottenere quel famoso sapore avvolgente. È stata data così un'opportunità sociale, oltre che di riscatto attraverso il lavoro, alle carcerate flegree che lavorano nel laboratorio della Sartoria. L'idea è nuova ma soprattutto innovativa, Marisa Del Vecchio ha affermato, quest'anno le calze hanno un sapore speciale di rinascita ed emancipazione femminile, con Palingen sosteniamo inclusione sociale e sostenibilità ambientale, mantenendo al centro come sempre il concetto di qualità.